ciao sono alessia di alessia scrap and craft e casa organizzata se non vuoi perdere neanche uno dei miei video ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo ce ne sono spesso ne sto facendo molti e quindi seguimi ciao ciao buongiorno a tutti come avevo promesso l'altro giorno eccomi qui a farvi vedere una serie di decorazioni per l'albero di natale per le ghirlande che ho fatto nel corso degli anni ogni anno ne faccio una nuova quest'anno è questa sono stati questi guantini deliziosi vi faccio vedere tutta una serie di questi queste decorazioni e vi lascio poi qui sotto perché sono tutti tutorial che ho già fatto nel corso degli anni sia video che non sia all'uncinetto che con altre tecniche molto semplici vi faccio vedere ve li faccio proprio vedere perché non fatto qui una ne ho qui da parte una scatoletta e vi lascio poi qui sotto nell'info box o nel primo commento tutti i link ai vari tutorial allora il primo è questo che è di qualche giorno fa in realtà è l'ultimo cioè quello di quest'anno e sono questi quantini che sono proprio dei veri e propri quanti mi fate all'uncinetto molto semplici io li ho attaccati a coppia si può fare anche si può appendere anche il guantino singolo e appunto sono semplicissimi da fare e veloci però molto molto belli quindi si possono utilizzare da appendere all'albero alle ghirlande eccetera e perché no anche da regolare come decorazione particolare eccoli qua quindi li abbiamo visti e sono questi da abbinare ai guantini l'anno scorso avevo fatto le calzine eccole qua stessa identica cosa cioè sono fatta l'uncinetto in modo molto molto semplice e e sono appunto un abbinamento perfetto se volete anche fare un set di decorazioni di natale da regalare anni fa cioè tanti tanti anni fa una delle mie prime tutorial natalizie anzi forse il primo erano state queste ciabattine anche in questo caso uncinetto molto semplice e sono per cambiare un po invece delle calzette le ciabattine e vi lascio sempre ricordatevi link qui sotto quindi trovate poi l'elenco con tutti i tutorial vediamo una cosa che non è all'uncinetto ma che è molto semplice e sono questi angioletti di carta sono molto semplici da fare anche questi c'è il tutorial si usa carta anche da pacchi di recupero io ho usato questa carta proprio craft che da una parte dorata e dall'altra rossa poi ho aggiunto questo cerchiolino per fare il visino dell'angioletto anche questi semplicissimi ne ho fatti tanti anni fa e sono sempre belli altra idea questa volta di riciclo estremo se avete delle barrette dei dei quei bastoncini per girare il caffè ecco cosa ho fatto un ne ho fatti più di uno veramente ne ho fatti tanti questi fiocchi di neve fatti riciclando queste queste barrettine per girare il caffè ecco qui ve lo faccio vedere meglio è molto delicato molto bello semplicemente riutilizzando questi e con qualche punto di colla e riutilizzando questi bastoncini e tagliandoli molto molto semplice anche qui vi lascio il tutorial questa volta cambiamo ancora e vediamo queste stelline cucite quindi fatte con il cucito creativo vedere sono del 2012 quindi dieci anni fa molto molto semplici questi sono degli stracci semplicemente io ho usato degli stracci bianchi che avevo in sovrappiù che erano coperte scusate lenzuola cose del genere vecchie ho cucito la stellina e fatto il disegno con i pennarelli semplicemente quindi molto molto semplice dietro di nuovo la stellina e ho messo l'anno ho poi cucito anche un nastrino per appenderle ed eccole qua altre decorazioni molto semplici ma molto molto carine poi vediamo di nuovo con la carta poi vediamo di nuovo un po di uncinetto con la carta avevo fatto questa carta imbottita questi uccellini di carta imbottita carta di giornale semplicemente incollata tagliata incollata i bordi e dentro c'è dell'imbottitura di nuovo di carta di giornale tagliata a striscioline sottili quindi molto molto semplice si possono fare qualsiasi tipo di forma io ho fatto questi uccellini sempre per l'albero di natale costo zero molto semplice si ricicla anche il quotidiano poi vediamo un po di uncinetto di nuovo beh i classici fiocchi di neve eccoli qua molto molto semplici bianchi con fatti con io questi li ho fatti con lo spago quello da legare gli arrosti quindi anche questo una un filato diciamo di riciclo molto semplici da fare anche questi vi lascio un po di tutorial e schemi qui sotto poi qui un'altra stellina vedete che non fate varie sempre 2012 e poi vediamo cos'altro trovo qua di nuovo una sorta di riciclo ma di materiali naturali ecco qui cosa ho fatto con dei legnetti semplicemente dei legnetti tagliati così ho aggiunto una perlina e un nastrino fatto un forellino qua con il trapano e ho aggiunto una perlina e un nastrino dorato ed eccoli qua da appendere questi legnetti da appendere all'albero ecco qui molto semplici ma ha molto carini al posto delle pigne o comunque da aggiungere alle solite pigne per chi preferisce decorazioni naturali o le abbina ad altro tipo di decorazione eccoli qua torniamo di nuovo all'uncinetto un'altra idea che avevo fatto qualche anno fa sono i berrettini di babbo natale con il pompon il bordino bianco la parte rossa un cordoncino ed ecco qua anche questi perfetti da abbinare a calzette guantini che li tiriamo fuori ed eventualmente anche ciabattine poi le ultime cose che vi faccio vedere questa all'inizio avevo pensata come orecchini e avevo fatto infatti il tutorial degli orecchini di queste palline dorate all'uncinetto ma allo stesso modo qua ho messo un altro tipo di gancetto per farle diventare delle decorazioni delle palline decorative dell'albero di natale semplicemente un cerchio all'uncinetto fatto con queste con questi filati dorati e luminescenti e quindi diventa perfetta pallina di natale dorata poi altri due o tre lavori di riciclo e uno di cucito creativo molto molto semplice andiamo al cucito palline fatte di feltro semplicemente cucite ai lati e si aggiunge un cordoncino e si imbottisce leggermente al centro molto molto semplici di nuovo e molto molto carine anche per riciclare i rimasugli di feltro che si possono fare di qualsiasi misura questi cerchi passiamo di nuovo al riciclo se usate le capsule del caffè quelle nespresso quale nesca e nespresso ma in realtà anche quelle di plastica quindi questi sono quelle di alluminio colorato ma anche quelle di plastica vanno bene si abbinano sia incollano 22 capsulette si aggiungono delle decorazioni o come sono un nastrino qui degli strass eccetera e ed ecco qua altre palline di natale particolari ma a costo zero e riciclate che si mantengono da un anno all'altro io ce l'ho da molti anni perché questi cosi qui questi cosetti di alluminio bastano schiacciarli sono infiniti quindi qui si può fare un albero tutto così ad esempio anche se avete un ufficio dove ci sono dove si usano queste capsule le tenete le lavate dentro bene e potete fare palline per alberi enormi tantissime oltre due idee di riciclo poi direi che vi ho fatto vedere quasi tutto quello che ho fatto in questi anni allora ecco qua questi sono coperchi di gelati o cose del genere trasparenti con questi coperchi che di solito ci sono sui bicchieri o cose del genere quando io li ho prendevo con un gelato particolare che era aveva il bicchiere di vetro e questo tappo questo tappo qui trasparente ce ne sono anche di varie dimensioni questo abbastanza grande poi dentro ho fatto ho infilato con un lago tutto questo nastre questo filo così metallizzato ho aggiunto il cordoncino ed è anche queste sono palline da appendere molto carine ma a costo zero e riciclo nel 100 per cento semplicissime da fare vi ricordo che vi lascio poi qui sotto tutti questi tutorial ultima idea molto semplice anche da guardare che sono un po tutte semplici e si possono fare anche con i bambini anche a scuola quindi anche per le maestre questa è un'idea super super semplice sono semplicemente dei rombi di cartone di cartone questo è un cartoncino riciclato dalle confezioni della pasta dei cereali e queste cose qua ricoperto questi rombi ricoperti di nastro metallizzato davanti e dietro fatto il foro con la bucatrice si aggiunge un nastrino e anche questi sono decorazioni molto molto semplice semplici costo praticamente zero perché quelli nastrini costano proprio poco e in un rotolo se con un rotolo se ne fanno decine se non centinaia di questi rombetti e e sono però molto di effetto perché appunto sono tutti metallizzati così e quindi appesi all'albero fanno un bellissimo effetto anche di vari colori quindi direi eccolo qua l'ultimo direi che vi ho fatto vedere una marea di cose quindi se ancora volete fare delle nuove decorazioni se volete fare dei regali su questo tema qui avete un sacco di idee tutti i tutorial li trovate qui sotto nel link nei link vari ci vediamo alla prossima e buona buon weekend visto che oggi è sabato un video un po più rilassante però con tantissime idee che potete usare per fare idee che progetti creativi in questi due giorni anche coi bambini ciao alla prossima ciao 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 ciao